Con quello sguardo ti perforava le membra, ti sentivi il letto dentro, eri nudo davanti a lui. Uno sguardo dritto, a segno andava. Io ho tirato avanti unicamente perché dire se mi succede qualcosa, se non posso più tornare a casa mia, ce l'ho io, il punto di riferimento, è la mia esegna. Qui sono venuti i primi del 44, Bisagno, Guini, Marcio. La verità di fare liberi, quella era la libertà che cercava Bisagno, fondata sulla verità, non sulla menzogna, non sui miti. Bisagno si muoveva come un fulmine da una parte e dall'altra, è lui che teneva in piedi la sesta zona. Continuerò a gridare ogni qualvolta si vogliono fare ingiustizie e griderò contro chiunque, anche se il mio grido dovesse causarmi disgrazia o altro. Io mi ricordo quel fatto quando a un certo momento dice, eh Bisagno, vieni tu a accompagnarci, vieni tu a accompagnarci. Allora lui fa sì sì, mi vengo, vengo. Bisagno, bisagno, cosa importa se si muore, sarà il grido del valore, partigiano eterno sta. Bisagno. Bisagno. ut